Sta nascendo qualcosa fra Ramsk e Aurora Celli. I due creator dall'11 ottobre si trovano insieme a Dubai. C'è però da specificare che A è per un progetto lavorativo e B non sono soli. Ramsk e Aurora in ogni caso hanno fatto impazzire letteralmente i loro followers. Appaiono infatti in diversi video molto vicini e davvero complici. Alle mie spalle potete vedere un video di Aurora che forse leggermente gelosa guarda Ramsk che osserva una ballerina. O il mio preferito, quello in cui Ramsk la notte di Halloween prova a baciare Aurora vestita da Wonder Woman. In tutta questa situazione è intervenuto anche Niccolò Bianchino. L'ex fidanzato di Aurora ad un utente che chiedeva se la ragazza fosse fidanzata con Ramsk ha risposto no. Sulla carta quindi Ramsk e Aurora sono solamente degli amici che si divertono a scherzare sul loro rapporto. Ma più avanti chissà dalla redazione di Webbo per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video.